Ciao a tutti, io sono il Dilan Dorofilo. Oggi recensione dell'album mensile numero 27. Ti ho visto morire, copertina di Claudio Villa che ritrae un insolito maggiolino colore argento, mentre il maggiolino di Dilan è bianco. Strane incongruenze come la copertina ad esempio del numero 3, sempre della serie regolare, dove vediamo un Dilan Dog in camicia bianca, mentre come sappiamo Dilan è in camicia rossa. Ma a quello c'è una spiegazione che darò quando recensirò l'album numero 3, mentre qui per questo maggiolino di questo colore non trovo spiegazione. Ti ho visto morire, una storia davvero cruciale nel mondo di Dilan Dog, una delle migliori storie di sempre. Troviamo come protagonista Harold Ascot, che sarebbe una specie di veggente, un uomo che è rimasto in coma per diversi anni, precisamente otto anni, dopodiché si è risvegliato e ha assunto il potere o, a sua detta, la maledizione di prevedere il futuro. Arnold Ascot va da Dilan per comunicare tutto quello che ha visto. Ha visto la morte di sua moglie con suo bambino, ovvero la ex moglie, che si scoprirà più avanti, perché prima non lo dice, dice solamente una donna, mentre dopo alla fine della storia si scopre che era la sua ex moglie. Comunicherà anche altre disgrazie, alcuni ragazzi che verranno uccisi a Londra, ovvero prevede il futuro e nel particolare prevede le cose brutte che accadranno in futuro. La prima fra tutte è il nuovo Hitler, che arriverà nel 2001. Alla fine si scopre che questo Arnold Ascot in realtà era un pazzo, quindi era tutto falso. Ha previsto addirittura il suicidio di Dilan Dog, quindi va principalmente da Dilan per comunicargli il suo futuro suicidio. E Dilan ci vuole vedere chiaro riguarda questa questione. Una storia che si rassume brevemente, per l'appunto perché alla fine si scopre che è solamente un pazzo. Un pazzo che pur di far avverare le sue premonizioni era lui stesso l'assassino. Quindi la donna che veniva uccisa era stato lui ad ucciderla. Altri ragazzi era stato lui a farli fuori e ha fatto avverare anche il suicidio di Dilan Dog. Perché questo Arnold Ascot è davvero quasi un sosia di Dilan, si somigliano davvero tanto. Si è vestito come Dilan e ha simulato il suicidio di Dilan Dog stesso. Però uno può pensare a questo punto. Diciamo, una volta che finisci di leggere questa storia sei confuso. Perché da un lato l'autore ci spiega che è il racconto di un folle. L'autore che in questo caso è Ferrandino, disegni di Corrado Roy. Però nel contesto della storia sembrerebbero vere premonizioni. Ovvero quest'uomo è stato comunque in coma otto anni. Quindi una volta che si è risvegliato ha assunto davvero questo potere. Davvero una storia confusa che troverà un suo perché nella recensione dell'albo speciale numero 27. che vedremo fra poco. Ovvero in un'altra recensione. Perché questa storia si collega direttamente a quella e ci dà una chiara visione del tutto. Quindi uno può pensare che è stato un racconto di un folle e quindi si è inventato tutto. Dopo ha inscenato le sue visioni per dar spazio alla sua follia omicida. Ma alla fine si scopre che almeno una premonizione di tutte quelle che troviamo nella storia era vera. Ovvero quella dell'Olocausto del 2001. Disegni di Corrado Roy che negli anni 90 erano più precisi nel rappresentare il personaggio di Rupert Everett. Secondo me Corrado Roy negli anni 90 era quello che più si avvicinava alla fisionomia di Rupert Everett. Per il resto i disegni sono sempre azzeccati perché questi giochi di luci e ombre sono davvero fantastici. Ancora il giorno d'oggi non trovo nessun disegnatore del suo calibro per quanto riguarda la rappresentazione dell'orrore. E soprattutto dell'incubo rappresentato davvero bene. L'incubo di per sé. Graucio, ecco l'unica nota che mi sento di dire su Corrado Roy, non capisco perché Graucio abbia sempre questi capelli un po' sbarazzini. Mentre Graucio si sa che ha una capigliatura più ordinata, Corrado Roy lo rappresenta sempre con queste specie di corna. Ma come se volesse essere un personaggio strampalato, cosa che poi in realtà Graucio effettivamente è. Quindi vi invito a vedere la recensione dello speciale numero 27 per apprezzare al meglio questa storia. Perché la vera natura di questa storia si riscopre nell'albo speciale numero 27 che sarà scritto da Giovanni Gualdoni. Noi ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo.